Il progetto Natale 6 Insieme è una progettualità, un intervento che abbiamo concordato intercettando dei finanziamenti e anche una condivisione sulle finalità con il garante regionale dei diritti alla persona perché l'abbiamo trovato fortemente sensibile sul tema del contrasto alla povertà educativa. Noi abbiamo già dei servizi in piedi tramite i servizi di prossimità che abbiamo attivato nell'ambito territoriale sociale numero 6 in tutti i comuni già da marzo e poi sono ripresi da settembre, servizi che sono servizi di dopo scuola quindi rivolti a bambini e bambine, in particolare di famiglie vulnerabili, sono circa 180, questi sono i numeri tra bambini e bambine di tutto l'ambito che sono coinvolti, che partecipano a questi dopo scuola, che si svolgono negli oratori, nelle biblioteche, quindi in spazi a Fano nel centro Gas Gas, quindi in spazi che sono anche animati appunto dai bambini. Grazie alla collaborazione con alcuni soggetti del terzo settore che hanno partecipato a questa diciamo a questa progettualità che sono la Cosmar che mette appunto alla parte degli operatori quindi gli operatori professionali, gli educatori e poi due associazioni del volontariato che sono l'Africa Chiama e Mille Voci, si realizzano appunto dei laboratori proprio per il Natale, da qui il titolo Natale 6 insieme che potenziano queste attività di aggregazione e attività ludico-ricreative, proprio in questa settimana realizzando tramite percorsi teatrali, musicali ma poi anche con laboratori creativi dei piccoli omaggi che poi ogni bambino si porta a casa in un piccolo zainetto personalizzato che contiene poi anche materiale didattico da utilizzare chiaramente a scuola. È un modo importante, una progettualità, un intervento importante per contrastare davvero la povertà educativa che è un fenomeno sempre in crescita e farlo in maniera il più possibile vicino alle famiglie che hanno davvero bisogno.